Il destino si desta dal suo sogno, etereo ed eterno come un dio, l'oro in bocca del mattino è un bisogno, onore per l'autore se la musica è di giusto pio. Io che sono ostinato a scrivere e non mi importa cosa esce fuori, io che sono costretto a sopravvivere usando penne senza colori. Non è inchiostro simpatico se a scrivere è la stessa fantasia ed il mio linguaggio statico resta in equilibrio lontano dalla via. Equilibrio di un corpo materiale, inizialmente inquiete poi la melodia, interviene come forza esterna e spirituale e dio comincia a scrivere ispirato dalla magia. Grazie a tutti! Sapessero trovare conforto al silenzio, quelle persone che si perdono. Sapessero trovare ispirazione dall'immenso, vuoto interiore per il quale si arrendono. E dio che sono l'antitesi ai santi, povero diavolo che all'inferno scrive, sapessi dar conforto ai tanti che muoiono e in silenzio nelle stive. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!